Eccoci ritornati, buon 2015, siamo carichi nonostante l'era, ma qua si balla, sono andati via gli amici ma io devo intervistare, lo devo fare perché ho sguardata di tesela, la ragazza principale della pista, come ti chiami? Nadia, complimenti innanzitutto perché hai ballato di tutto e sempre, grazie gentile, come ti è sembrata la serata? Molto bella, molto divertente, e mangiare? Non l'ho mangiato però sembra molto buono, diciamo che la nostra amica Nadia ci è passata a trovare nella terza fase, quella della disco, quindi nel terzo ingresso, allora lo consiglieresti il convento? Sicuramente, guardate la camera, guarda Dillo, io e gli amici cosa ti perdete se non è arrivata il convento? Ecco, avete perduto una festa bellissima, è sicura, è sicura, l'ho vista ballare e divertita, grazie Nadia, tanti auguri Ciao, 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 Alex Angeletto, tenele 15 in convento Ciao 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 Ciao